Io l'ho provato, mi trovo molto bene perché praticamente va a sostituire quello che prima faceva la pellicola per la guarigione del tatuaggio in un modo sicuramente improprio ed in più agevola la guarigione anche al cliente che non deve costantemente pulirlo e rimettere la crema. Con questo è un prodotto completo che fa tutto in uno. Dermalize, that's it!